Allora, fare bollire le patate, pesarle naturalmente con la rigetta in base a quanto ne vuoi fare. E poi gelarli e schiacciarli, possibilmente caldi. No, guarda, per adesso lasciamo un pochettino comici, come ci ho scritto da dettagli agli uomini. Ah, sì, ecco. Quando provavo, mi pari un pochettino perché spero che mi entriva chiusata. Vuoi mettere un pochino di formaggio? No, 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 non c'era già tanto. Io l'ho fatta, perché ci voleva. Sì, quest'estate. I figli, non mi ricordo. Allora, mettiamo un po' di palina là dentro. Adesso facciamo via. E così mettiamo una pressura. Una pressura qui davanti. Eccoci, proviamo i bracciolini da te. Tenta qui su piedi, cacciami. Lo fate voi. Ecco. In un minuto. Ok, una breve. Un minuto proprio. A bene. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua.